cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Tele Europa Network ti segue ovunque disponibile per tutti gli utenti Android e Apple ti aspettiamo Individuati i mandanti dell'omicidio di Francesco Rosso il macellaio ucciso il 14 aprile del 2015 a Simeri Cricchi l'esecuzione è pagata 30.000 euro Fondi per l'agricoltura erogati dalla regione finiti nelle mani di esponenti dei clan 8 le persone arrestate a Reggio Calabria Le nostre telecamere nel pronto soccorso dell'annunziata di Cosenza le lunghe attese dei cittadini e l'estenuante lavoro dei sanitari C'è un altro pentito nel clan degli Zingari di Cosenza l'uomo condannato a 13 anni di carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sta raccontando ai magistrati i segreti del gruppo criminale 16 persone appartenenti al movimento Prendo Casa di Cosenza sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Cosenza per violenza privata Buone notizie per i pescatori di Crotone Regione e provincia dovranno pagare il rimborso atteso dal 2014 Sorride solo il Rende che batte a Lorenzo Nirrieti per due reti a uno sconfitte reggine in casa e vibonese in trasferta Buon pomeriggio dalla redazione di Tele Europa Network ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale lo avete visto dai titoli in apertura parliamo di cronaca con l'omicidio di Francesco Rosso il macellaio ucciso mentre era nell'attività commerciale di famiglia il 14 aprile di tre anni fa dopo gli arresti eseguiti il 21 settembre scorso agli esecutori materiali del delitto oggi in manette sono finiti i mandanti di quel tragico delitto che sconvolse la comunità catanzarese ma vediamo i particolari nel nostro servizio La vita di un uomo vale 30.000 euro? Quella del macellaio Francesco Rosso ucciso a Simeri Cricchi il 14 aprile 2015? Sì, secondo gli inquirenti che hanno arrestato questa mattina due uomini ritenuti i mandanti dell'omicidio Rosso morì in una sorta di agguato in piena regola con tre colpi di pistola al viso e al torace mentre si trovava intento a lavorare nella macelleria di famiglia L'hanno chiamata a quinto comandamento l'operazione eseguita nelle prime ore del mattino dalla compagnia carabiniera di Selliamadina nei confronti di due indagati Evangelista Russo di 70 anni e Francesco Mauro di 41 accusati di aver commissionato fornendo non solo i soldi ma anche l'arma del delitto l'omicidio di una persona ritenuta evidentemente scomoda Siamo abbastanza tranquilli sul piano probatorio nei confronti degli arrestati di questa mattina due indagati proprio per essere mandanti di questo omicidio che è stato abbastanza brutto perché fatto in pieno centro fatto in un locale aperto al pubblico quindi col pericolo che ci potessero essere altre persone passanti, clienti della macelleria come spesso capita di vedere morire persone che non hanno a che fare con le eventuali causali di questi omicidi Mauro, secondo le investigazioni e le intercettazioni captate dai militari dipendente, factotum di Russo nella sua ditta di tornitura avrebbe commissionato l'omicidio del macellaio per una cifra pattuita in 30.000 euro fornendogli inoltre l'arma per l'esecuzione dell'efferato delitto In questo caso contrasti che vengono da anni di tensione, di esasperazione dei rapporti che originano da un odio personale che si è realizzato nel tempo anche per gelosia di carattere professionale e quindi veramente un spaccato di una comunità che si spalda che si deteriora nei rapporti che dovrebbero invece alimentare una convivenza civile I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura La misura odierna segue gli arresti eseguiti il 21 settembre scorso di quattro soggetti ritenuti esecutori materiali dell'efferato delitto Le indagini di questi mesi hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da Danilo Monti che hanno permesso agli inquirenti di suffragare l'intera ipotesi investigativa fornendo particolari e dettagli che hanno portato agli arresti di oggi alla base dell'omicidio dissidi per questioni di interesse fra le due famiglie che avrebbero portato al tragico epilogo e contributi destinati alle aziende agricole finiti in mano ai clan otto gli arresti a Reggio Calabria all'operazione dei carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia Regina per ben 18 anni esponenti dell'andrangheta hanno beneficiato di contributi pubblici Rosalba Baldino sentiamo Verrebbe da dire siamo alle solite leggendo i risultati dell'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia Regina diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri al centro dell'inchiesta soldi pubblici finiti in mano ad esponenti dell'andrangheta questa volta la manica larga se dovesse essere confermato l'impianto accusatorio è quella dell'agenzia che distribuisce il denaro in agricoltura settore trainante dell'economia calabrese per 18 anni secondo quanto accertato dagli inquirenti le otto persone arrestate avrebbero usufruito probabilmente senza averne diritto di cospicue somme di denaro destinati alla crescita e allo sviluppo di aziende agricole gli uomini dell'arma al lavoro dalle prime luci dell'alba hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare l'accusa nei loro confronti e di associazione per delinquere e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche aggravate dalla finalità di agevolare le consorterie mafiose in particolare dalle carte dell'inchiesta si evince che le truffe si sarebbero concretizzate con l'erogazione di contributi centinaia di migliaia di euro previsti dai fondi europei agricoli di garanzia e sviluppo rurale a uomini contigui ai clan di Palmi Sinopoli Reggio Calabria perfino un detenuto al 41 bis avrebbe beneficiato dei fondi un'operazione che svela tra documenti spariti e altri falsificati il business e le infiltrazioni dell'andrangheta nei contributi pubblici lasciamo solo per il momento la cronaca ci colleghiamo proprio con la nostra troupe in diretta si trova per la prima volta nel pronto soccorso dell'annunziata di Cosenza le nostre telecamere in esclusiva ci racconteranno non solo nel corso del nostro Tg ma anche nella trasmissione subito dopo approfondimento del nostro direttore Attilio Sabato le lunghe attese dei cittadini e il lavoro estenuante dei sanitari in servizio ma vedo proprio collegata con noi Rosalba Baldino allora Rosalba qual è la situazione oggi? Sì Anna buon pomeriggio a te buon pomeriggio ai nostri telespettatori ci troviamo all'interno del pronto soccorso di Cosenza come dicevi ci sono lunghe attese ed è un lavoro davvero estenuante per i sanitari noi ci troviamo proprio dinanzi all'ambulatorio con i codici rossi per fortuna in questo momento mentre vi parliamo è vuoto però non è purtroppo sempre così al momento i pazienti in attesa forse lì potete vedere alle nostre spalle sono in quaranta dieci sono in attesa di essere visitati questa è l'affluenza ed è una giornata siamo in compagnia del dottor Michele Mita di Tonno che è il dirigente del pronto soccorso dottore intanto è sempre così insomma c'è sempre questo continuo arrivo si lavora sempre in emergenza sì diciamo che oggi è una giornata relativamente tranquilla i nostri accessi come tutti i pronto soccorso gli accessi variano in base a una serie di fattori che non sono controllabili da noi il nostro pronto soccorso accetta mediamente circa 200 202 pazienti al giorno il che chiaramente è una cifra particolarmente alta cifre che sono condizionate da un bacino di utenza estremamente ampio perché l'ospedale di Cosenza essendo un centro di riferimento diciamo si drena una popolazione di circa 750-800 mila pazienti devo dire che negli ultimi mesi stiamo anche assistendo all'arrivo di pazienti da altre province provincia di Vibo provincia di Reggio Calabria provincia di Crotone il che significa che diciamo si questo ospedale rappresenta comunque all'interno di questa regione un riferimento funzionale e organizzativo è chiaro che l'eccellenza richiede risorse richiede spazi richiede strutture che in questo momento per quello che riguarda il nostro pronto soccorso diciamo così non abbiamo ancora in maniera completa ma la direzione si sta organizzando per cercare di migliorare anche questo aspetto proprio per far fronte a quelle che sono le richieste del territorio abbiamo visto insomma proprio in attesa delle barelle lei diceva un problema strutturale che significa che non avete delle stanze in cui dare una privacy una qualità anche di accoglienza ai pazienti diciamo che la mia personale sensazione è che questa struttura sia stata diciamo così concepita secondo quelli che erano i vecchi dettami delle organizzazioni di pronto soccorso ormai i pronto soccorso sono organizzati in maniera tale da avere degli spazi molto ampi i cosiddetti open space dove tutti i pazienti sono a vista e possono essere diciamo così tenuti sott'occhio da parte delle persone sia medico che infermieristico questa struttura diciamo così è dimensionalmente e proprio strutturalmente per come sono disposti i muri i pilastri non rispecchia questi standard speriamo che diciamo così laddove un giorno ci sarà un ospedale nuovo si possa avere una struttura un pronto soccorso più confacente a quelli che sono i tempi che viviamo certo Anna ti restituisco subito la linea volevo solo fare un'ultima domanda al dottore perché riguarda proprio l'assistenza il personale sanitario esiguo rispetto al numero delle richieste quello del personale sanitario è un problema nazionale io settembre scorso sono stato a Bologna ad una riunione dove eravamo 162 primarie di pronto soccorso da tutta Italia e a conti fatti mancano circa 2500 medici di pronto soccorso la cosa più drammatica è che comunque anche i concorsi in centri ad elevata centri blasonati a volte vanno vacanti c'è stato il caso emblematico dell'ospedale da cui parlando io quello di Parma in cui non c'è stato nessun medico candidato ad un'assunzione in pronto soccorso c'è stato il caso di Modena dove erano disponibili otto posti per otto medici si sono presentati in due e questo è un discorso che si sta manifestando a livello nazionale che purtroppo evidenzia una carenza di programmazione a livello di MIUR a livello di università che va indietro negli anni Allora su questo ti restituisco la linea diamo appuntamento ai nostri telespettatori alle 15 Sì subito dopo il nostro telegiornale rimanete con noi perché ci saranno ulteriori approfondimenti proprio la nostra collega sarà lì in diretta dal pronto soccorso di Cosenza in studio l'approfondimento del direttore Attilio Sabato proseguiamo con la cronaca ci spostiamo a Vibo Valencia capitale calabrese di un'economia sommersa che vede viaggiare milioni di euro quella proprio del gioco d'azzardo cifre imponenti addirittura a 7 zeri registrati proprio nell'arco di pochissimo tempo vediamo quanto il fenomeno sia diffuso proprio nel prossimo servizio nella provincia che nelle classifiche nazionali risulta ultima per qualità della vita c'è un ulteriore fattore che crea preoccupazione la diffusione del gioco d'azzardo con una presenza spropositata di slot machine e videolotteri in tutta la provincia di Vibo Valencia sono ormai un centinaio le sale gioco alcune delle quali anche in prossimità delle scuole le giocate in tutto il territorio provinciale arrivano a sfondare in un anno la barriera dei 250 milioni di euro già da un anno il coordinamento di Libera Vibo si è rivolto ai singoli comuni della provincia per chiedere di dotarsi attraverso regolamenti o ordinanze di misure appropriate ed efficaci che disciplinino in senso restrittivo l'attività del gioco d'azzardo autorizzata sul territorio cittadino le risposte ancora attendono intanto il fenomeno va assumendo i connotati di una vera e propria malattia sociale la ludopatia colpisce soprattutto giovani ed anziani e vi è la necessità di una presa di coscienza e di iniziative in grado di coinvolgere la parte debole della società la mobilizzazione è partita anche attraverso l'iniziativa del movimento dei focolari che insieme all'associazione per il bene comune attua attività di sensibilizzazione verso le categorie sociali considerate più vulnerabili abbiamo preso coscienza da tempo di questo fenomeno che come abbiamo visto interessa tutta Italia ma in Calabria probabilmente proprio perché siamo una regione così povera alla ricerca della fortuna ingannati dalla ricerca della fortuna si gioca tanti e tanti milioni vengono persi sottratti alle famiglie all'economia del posto noi come movimento dei focolari e insieme per il bene comune che è un'associazione nata proprio per organizzare questi eventi vogliamo dare un contributo alla città siamo partiti dai giovani per cercare di iniziare un percorso di educazione finanziaria perché anche la lotta al gioco d'azzardo è educazione finanziaria quindi vorremmo organizzare uno slot mob che si concretizzerà nello scegliere dei locali dei bar che hanno per scelta detto no all'azzardo e premiarli semplicemente portando la cittadinanza ad andare un giorno a consumare qualcosa ma per dare il senso per dare il senso appunto di questa scelta etica che il gestore del bar avrà fatto e ora ci spostiamo a Gioia Tauro dove nelle prossime settimane è prevista la visita del ministro Toninelli il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli torna in Calabria e passerà un'intera giornata a quella del prossimo martedì nel porto di Gioia Tauro per capire e rendersi conto delle problematiche che sta attraversando questo scalo da molti osservatori è stato definito il grande malato di Calabria che da troppo tempo aspetta di conoscere il suo destino e di sapere quali sono i nuovi progetti del governo la visita del ministro sarà l'occasione anche per vedere il definitivo completamento della prima e imponente parte del gateway ferroviario l'infrastruttura realizzata grazie ai fondi dell'autorità portuale che porterà i binari davanti alle banchine la visita arriva in un momento molto delicato per il futuro dello scalo calabrese con la società di gestione del terminal la MCT in grande difficoltà e alle prese con un preoccupante calo di movimentazione e da ultimo con l'avvertenza giudiziaria che la sta vedendo soccombere davanti al tribunale del lavoro di Palmi con centinaia di reintegri dei lavoratori che erano stati licenziati nell'estate del 2017 ma le questioni più complicate sono anche quelle inerenti la decisione finale sullo smembramento del settore portuale calabrese con i porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria slegati da Gioia Tauro e uniti a quelli siciliani di Messina e Milazzo e poi la difficile e delicata partita dell'assetto della governance del terminal ricordiamo che il porto di Gioia Tauro è commissariato da qualche anno da Andrea Agostinelli adesso le notizie di un altro pentito nel clan degli zingari di Cosenza di 16 indagati del comitato prendo casa nei nostri 100 secondi di cronaca ha iniziato a collaborare con la giustizia c'è un nuovo pentito a Cosenza si tratta di un 42enne del clan degli zingari in carcere con l'accusa di traffico di stupefacenti l'uomo condannato a 13 anni potrebbe fare rivelazioni legate al business del narcotraffico occupazione dell'ex hotel centrale e dello stabile di via Savoia 16 gli indagati del comitato prendo casa l'inchiesta della procura Abruzia tra i reati contestati il furto di energie elettriche e violenza privata a 5 esponenti contestata all'associazione a delinquere l'occupazione degli immobili per il comitato ha avuto l'obiettivo di dare un tetto alle famiglie disagiate 200 kg di merce contraffatta di noti marchi sequestrata dalla squadra volanti a Corigliano Rossano denunciati due extracomunitari si tratta per lo più di abbigliamento maschile giubbotti e scarpe per i quali gli ambulanti non hanno saputo spiegare la provenienza una 38enne di Lamezia Termet arrestata dalla polizia con l'accusa di furto aggravato di energie elettrica gli agenti nel corso di un controllo nel negozio gestito dalla donna hanno scoperto la truffa ai danni dell'Enel la commerciante è stata denunciata sequestrati i beni per oltre un milione di euro ad un imprenditore del crotonese su disposizione della direzione investigativa antimafia di Firenze l'uomo arrestato nel 2015 nel corso dell'operazione media è accusato di associazione di stampo mafioso cambiamo argomento regione e comuni dovranno pagare i contributi e i pescatori di crotonese un'avvertenza che va avanti da 4 anni è stato il ministero a dirimere l'avvertenza dopo 4 anni arriva una risposta definitiva per i pescatori del crotonese che aspettano i risarcimenti dalla 2014 a darne le notizie l'euro parlamentare pentastellata Laura Ferrara che chiarisce chi deve erogare le royalties si tratta del sostegno al reddito dei pescatori in pratica un rimborso per il mancato pescato dovuto alla riduzione dell'area di pesca per la presenza delle piattaforme eni nel compartimento marittimo della città di Pitagora è stato lo stesso ministero a fare luce sulla complessa vertenza regioni e comuni non hanno più alibi le royalties devono essere corrisposte ai pescatori del crotonese nel più breve tempo possibile questa è la risposta peraltro che è stata data dal ministero del lavoro proprio al prefetto di crotone chiarendo una volta per tutte la natura risarcitoria dell'indinizzo dovuto ai pescatori del crotonese abbiamo risolto quindi in cinque mesi ciò che la vecchia politica non è riuscita a fare per anni ponendo fine a questa vicenda abbiamo interessato la commissione europea abbiamo interessato tutti i livelli istituzionali fino al ministero del lavoro che peraltro ci chiarisce un ulteriore dato e cioè come la confusione derivi anche dall'accordo di programma che è stato siglato tra regione e i comuni del crotonese interessati ecco adesso quindi spetta a loro erogare quest'indinizzo che doveva essere corrisposto dal 2014 senza soluzione di continuità e soprattutto ci si augura che anche si chiarisca la natura giuridica delle royalties in modo tale da corrispondere ripeto questo risarcimento ai pescatori del crotonese ora ci spostiamo a Santo Stefano di Roiano per un gemellaggio di pace e di fratellanza con la città di Gubbio patto di amicizia fra la città di Gubbio e Santo Stefano di Roiano i due primi cittadini Lucia Nicoletti e Filippo Mario Stirati hanno scoperto la targa testimone di questo rapporto di affinità che lega le due comunità il grande albero di Natale che sorge sulle pendici del monte Tirone nel Savuto nasce proprio guardando all'albero più grande al mondo che si realizza a Gubbio nel corso degli anni è un'immagine che è cresciuta esponenzialmente è stata migliorata perfezionata adattata sempre meglio al monte Ingino che peraltro è il monte anch'esso simbolo della nostra città perché su di esso posa la basilica di Sant'Ubaldo del nostro patrono protettore quindi è chiaro che ci sono tanti motivi spirituali sentimentali affettivi i due grandi alberi culminano con due santuari Santa Liberata e Sant'Ubaldo e diventano un messaggio di pace e speranza tanti i volontari che lavorano ogni anno per realizzare questi alberi spettacolari che donano luce dal 7 dicembre al 7 di gennaio vogliamo che una comunità quale quella di Santo Stefano di Rogliano una realtà di 1700 abitanti in una Calabria che la leggiamo ogni giorno sui giornali potesse avere una facciata diversa potesse avere finalmente il riscatto che merita finalmente il patto di un'amicizia con una città che io adoro che è Gubbio che è Perugia dietro alla provincia di Perugia quindi c'è veramente dietro tantissimo D'ora parliamo di sport una vittoria e due sconfitte il bilancio proprio del turno infrasettimanale di calcio di Serie C per le squadre calabresi vince il Rende sconfitte Vibonese e Regina torna al successo dopo due turni il Rende che a Lorenzo chiude senza troppi patemi la pratica a Rieti i biancorossi vanno in gol con Agua allo scadere della prima frazione in Fulmia c'è il sereno per i laziali che fino a quel momento hanno gestito in maniera tranquilla i guizzi degli avversari poi nella ripresa è vivacqua a raddoppiare grazie al calcio di rigore concesso dal direttore di gara proprio per l'atterramento del giocatore vendese ma due minuti più tardi Gondo prova a riaprire la sfida con un Eurogold al limite dell'aria che lascia tutti a bocca aperta il Rieti tenta il tutto per tutto ma i calabresi sono accorti e la gara termina con il risultato di 2 a 1 soddisfatto a fine partita il tecnico modesto che elogia il gruppo ma sottolinea alcuni errori da non ripetere più io devo fare solo i complimenti ai ragazzi specialmente a chi che non è mai facile comunque entrare entrare senza sapere che magari tipo secondo me il ruolo del portiere è il ruolo più difficile quando si entra perché devi essere subito pronto subito determinante poi dopo è entrato in un momento dove noi eravamo pure in 10 quindi non era facile ma a Daloni la stessa cosa perché a 10 minuti prima che iniziasse la partita mi si è fatto male sabato un problemino al quadricipite ma spero di di averlo per per domenica Minelli ha avuto un problema ieri in rifinitura quindi eravamo un po' cortini dietro però i ragazzi si sono comportati benissimo anche quando siamo rimasti in 10 hanno sofferto siamo andati anche sul 2 a 0 quindi sono soddisfatto perché questa squadra anche soffrendo ha portato 3 punti molto importanti per noi due sconfitte invece caratterizzano il turno infrasettimanale per Vibonese e Reggine i Rossoblu perdono di misura a Monopoli mentre gli Amaranto al Granillo si fanno travolgere dalla Cavese che con tre reti messi a segno tutte nella ripresa fa bottino pieno a fine gara il rammarico del tecnico Reggino Cevoli io mi sono raccomandato in questi giorni che era una partita difficile l'avevo anche detto e lo sapevo è chiaro che poi come sempre gli episodi fanno la differenza oggi abbiamo commesso delle ingenuità abbiamo fatto degli errori soprattutto il secondo tempo abbiamo subito un gol a mio avviso c'era un fallo abbastanza netto su Chiruan tant'è vero che è dovuto uscire poi dopo perdevamo 1-0 mi sono rischiato Salandria Terzino perché l'aveva fatto già sapevo che lo poteva fare e abbiamo cambiato sistema di gioco che avevo già l'idea di farlo in partita in corso e ci siamo messi 4-2-3-1 dovevamo recuperare quindi dovevamo cercare di fare qualcosa in più poi dopo il secondo il secondo gol in effetti ci ha tagliato un po' le gambe e purtroppo poi negli episodi questa è una squadra come è capitato altre volte che perde gli equilibri perde le misure e quando va un po' in confusione rischia di fare brutte figure adesso vediamo le previsioni del tempo l'ingresso l'ingresso di una nuova veloce perturbazione sul Mediterraneo centrale sta causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione ed in particolare sulla Calabria centro-settentrionale dove la fase più acuta si concentra nella prima parte della giornata di giovedì venerdì invece si prevede una giornata tutto sommato stabile in attesa delle prime avvisaglie di un nuovo peggioramento che dovrebbe interessare la nostra regione in serata ma diamo lo sguardo al tempo previsto ora sulla Calabria per le prossime ore oggi cielo generalmente nuvoloso sulla Calabria centro-settentrionale e piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale avremo nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri sul Pollino e sulla Sila con quota neve in rialzo nel corso della giornata altrove cielo parzialmente nuvoloso con possibili piogge temperatura in leggero aumento domani cielo da poco a parzialmente nuvoloso ovunque dalla serata deciso aumento della nuvolosità con possibili piogge temperature stazionarie passiamo al comportamento di mari e venti oggi mosso il Martireno con venti di direzione occidentale da poco mosso a mosso il Marionio con venti deboli dei quadranti meridionali domani mari generalmente mossi con venti moderati dei quadranti meridionali prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria anche per noi è tutto io mi fermo qui grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app Tele Europa Network ti segue ovunque disponibile per tutti gli utenti Android e Apple ti aspettiamo